Buongiorno e ben trovati con la prima edizione dell'informazione di Antenna Sud che apriamo subito con la politica e andiamo a Foggia perché con la cerimonia di insediamento a Palazzo di Città della Neosindaca inizia l'era Maria Aida Episcopo, vincitrice delle lezioni amministrative dello scorso 22 e 23 di ottobre. E' una grande emozione per me di iniziare questo lavoro con la fascia tricolore, affermato la prima cittadina del capoluogo Dauno. Onori al sindaco della città di Foggia! E' la prima volta nella storia del capoluogo Dauno che una donna indossa la fascia tricolore da primo cittadino, visibilmente emozionata e consapevole della responsabilità di indirizzare un nuovo corso per la città di Foggia, reduce da due anni di commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, Maria Aida Episcopo nelle scorse ore si è insediata ufficialmente a Palazzo di Città raccogliendo il testimone della commissione straordinaria che ha traghettato il capoluogo Dauno in questi ultimi anni fino all'appuntamento elettorale del 22 e 23 ottobre scorsi in cui il campo largo progressista si è imposto a primo turno con il 52,78% delle preferenze. E' ufficiale sì e questo è un momento denso di connotazione affettiva e emotiva. Un grande ringraziamento alla gestione commissariale, al prefetto Cardellicchio e ai commissari tutti. Un ringraziamento alla coalizione del campo progressista e un saluto affettuoso di buon lavoro anche all'opposizione di questo Consiglio Comunale per la quale mi batterò sempre con equivicinanza rispetto ai bisogni di tutti i cittadini. E' un grande momento per me perché non è che ci si nasce col ruolo apicale di una città ma vi assicuro che da ora in poi, anzi già da venerdì lo sto facendo avrò modo di essere sul pezzo, essere pronta, energica e determinata per il bene di questa città. Una sensibilità multitasking che però è sempre complementare alla bellissima sensibilità del genere maschile. Andiamo all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno dove troviamo proprio la lettera di saluto del commissario del prefetto Vincenzo Cardellicchio alla mia Foggia e gli auguri per un rinnovato futuro all'altezza del suo passato. Con la più profonda e sincera commozione termino questa mia esperienza nella città di Foggia impegnativa, assorbente di tante energie ma una manavente altrettanto stimolante, particolarmente gratificante. L'ho fatto con impegno profondo, rispetto e coraggio e passione e molti l'hanno capito e me ne hanno generosamente reso merito. Perché se è vero che la mafia foggiana è motivo della maggiore allarme sociale in ambito nazionale come recentemente autorevolmente detto dal procuratore generale della Cassazione e che sempre alta dovrà essere la guardia di difesa contro le più abiette della maschinità di cui tutte le mafie sono intrise. E' altrettanto vero che Foggia è una città grande dotata di un speciale patrimonio umano tenace nel lavoro, caritatevole delle disgrazie e dotata di uno straordinario coraggio testimoniato da ben due medaglie d'oro al valore militare e civile che non ho mai mancato di ricordare in ogni pubblica manifestazione così il prefetto Vincenzo Cardellicchio al momento del commiato da Palazzo di Città e il passaggio di consegne con la neosindaca episcopo. Parliamo ancora di politica. Andiamo adesso però nel territorio barese dove si pensa già ai prossimi appuntamenti. Fra un anno le amministrative e il Partito Democratico scende in campo per difendere la scelta delle primarie. Il PD barese non ha alcuna intenzione di rinunciare alle primarie. La priorità resta la scelta unitaria di un candidato a primo cittadino che prove a prendere la staffetta da Antonio De Caro ma in alternativa si dovrà comunque passare dai gazebo. Con buona pace degli alleati più reticenti a partire dal Movimento 5 Stelle i pentastellati si sono incontrati nell'escorsione. Assemblea cittadina per lavorare al programma, sì, ma pure per ribadire il messaggio. Niente primarie. Per non fare una guerra tra tessere e per delegare al tavolo. La decisione ultima spiegano. In mezzo Foggia è la prima cittadina eletta, Maria Eda Episcopo, che indossa la fascia proprio in queste ore. Il PD è intenzionato a non farsi dettare la linea. Il segretario regionale Domenico De Santis prende carta e penna e scrive rivendichiamo il diritto di indicare un nostro candidato che deve essere il successore di due grandi sindaci PD come Emiliano e De Caro e chiediamo a chiunque voglia indicare il proprio di candidato di partecipare alle primarie, anziché imporlo, mettere in chiaro. Il nome non c'è ancora. L'onorevole Marco Lacarra, gli assessori Paolo Romano e Pietro Petruzelli devono ancora trovare la sintesi, ma senza mezzi, termini. Ho a dirla con le parole della nota del segretario. Se il Movimento non avveti sui nomi che circolano, non dovrebbe neppure averne a discutere di una candidatura che PD e centrosinistra individueranno attraverso le primarie, come è sempre accaduto. Non è un out-out, ma il primo vero nodo politico della coalizione e del Movimento dovranno decidere cosa fare. E di primarie si parla anche nel territorio leccese il messaggio che il Partito Democratico manda al sindaco uscente. Salveni. Chiarete un po' di elezioni, cosa ne pensa? Lei prima di tutto si candiderà al Consiglio Comunale? No, no. Di certo c'è che noi tutti quanti andiamo incontro alla morte. E basta. Proprio una dichiarazione così funerea? No, funerea. No, è reale. Tempo di primarie a Lecce, ma nell'area di centrosinistra Cichie dei banchi della maggioranza prende tempo e distanza. Qual è la sua idea in merito alle primarie, anche se voi come Movimento l'avete già detta in modo chiaro? Sono le primarie di sinistra, se le facessero loro. Se fosse stato un'area centrista che raggruppa il civismo che sostiene e ha sostenuto Carlo Salvemini, probabilmente avremmo partecipato anche noi a queste primarie. È sempre più una lotta interna tra idee sinistroide. Lei è al momento però siede in un consiglio comunale di sinistra? No, di sinistra, di centrosinistra. È diversa. Gli esponenti parlamentari del centrodestra, Marti e Congedo, hanno fatto un appello, apriamoci tutti anche ai movimenti civici. Lei vorrebbe sedersi a quel tavolo? Gli appelli non servono a niente. Servono i programmi, come abbiamo detto in altre occasioni. E noi, che abbiamo un gruppetto di civici, stiamo cercando di fare un programmino da presentare poi al futuro candidato sindaco. La sintesi di questa nostra intervista è che lei non si rivede in una candidatura di Salvemini? No, io non mi rivedo. Io faccio parte di un gruppo politico. È il gruppo politico che deve rivedersi in Salvemini. Quindi ad oggi liberi tutti? No, ad oggi libero io. Gli altri sono impegnati. Gli altri che stanno partecipando alle primarie sono impegnati. Parliamo di politica ma con un tono decisamente diverso perché andiamo nel territorio della BAT con la presenza del ministro Matteo Piante-Dosi che ha concluso la sua visita dopo il Comitato per la Sicurezza nella Prefettura di Barletta. Ottimismo da parte del sindaco Cosimo Cannito al quale si associano i primi cittadini della BAT attesa per i rinforzi in termine di organico. Promessi proprio dal ministro. In arrivo i rinforzi per le forze dell'ordine. 50 agenti di polizia entro giugno del 2024 è quanto ha annunciato il ministro dell'interno Matteo Piante-Dosi partecipando al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in Prefettura a Barletta. Al termine del vertice ha incontrato i giornalisti. Non è stata una riunione di circostanza, ha detto. La sesta provincia ha caratteristiche della criminalità diverse da quelle del resto d'Italia. Positivo il confronto con la magistratura e i sindaci per comprendere meglio le problematiche e agire di conseguenza. Ho già annunciato ai primi cittadini quali saranno le misure di sicurezza che metteremo in campo. Il territorio della BAT ha bisogno di particolare attenzione per la sicurezza dei cittadini. Concretamente appunto il rafforzamento degli organici delle forze di polizia questo c'è già un riflesso di quelle che sono le iniziative in corso. Ho dato dei numeri di qualche decina di unità che già quest'anno si registrava anche alla provincia di BAT come saldo positivo. Questo è sicuramente poco, è insufficiente. Ma voglio dire, noi veniamo da anni di compressione degli investimenti fatti anche sugli organici delle forze di polizia. Si erano compressi gli organici complessivi si era elevata l'età media del personale di polizia consentitemi, non è propaganda il nostro governo a cominciare dalla legge di bilancio dell'anno scorso ha postato delle risorse in bilancio per cui già da quest'anno c'è un'inversione di tendenze. Per quanto riguarda i furti d'auto ci sarà, dal servizio centrale operativo di Roma ci saranno delle squadre specializzate per debellare questo fenomeno che tanto danno fa all'immagine e al turismo e all'economia del nostro territorio. Il ministro e anche il capo di polizia hanno assunto l'impegno di inviare 50 agenti di polizia a giugno 2024 e più 50 agenti di polizia a dicembre 2024. Il ministro Piantedosi poi si è fermato a Mola dove ha inaugurato un centro sportivo. Il centro sportivo della città dei ragazzi di Mola di Bari dedicato all'agente di polizia Antonio Montinaro è diventato realtà e a tagliare il nastro è arrivato il ministro degli interni Matteo Piantedosi tra batte barese per una giornata dedicata ai più giovani e all'ordine pubblico. Un campo da calcio a 11, due campi da paddle e uno da beach volley. Questo il secondo lotto a servizio dei minori del territorio in condizioni di disagio e a rischio di debianza arriva poco più di 10 anni di distanza dalla realizzazione delle strutture destinate ai servizi residenziali con due comunità di famiglia per minore attualmente ampliate a tre un centro polivanente per minori e una foresteria per attività formative. Il terzo lotto, l'ultimo, prevede la realizzazione di un centro turistico formativo alberghiero turistico. Il progetto, che copre Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano serve circa 62 ragazzi tra i 6 e i 25 anni. Con la realizzazione del centro polisportivo si conta di poter raggiungere un'utenza complessiva di circa 300 minori. Il centro sportivo della città dei ragazzi, in ultimo, ha inoltrato richiesta di affiliazione alle fiamme oro della Polizia di Stato e di istituzione di una sezione giovanile delle fiamme oro in considerazione anche della prossima realizzazione del palazzetto dello sport. Sono luoghi dove si esemplifica la cura del prossimo come elemento di investimento per tutta la società. Saremo di nuovo qui perché ne seguiremo la progressiva realizzazione ed è molto importante che con la nostra istituzione, che è il gruppo sportivo delle fiamme oro, diamo non solo l'opportunità a questi ragazzi di avere una possibilità di curare anche lo sport come elemento anche di affermazione della propria persona, ma anche di contribuire a dare quei riferimenti valoriali che il gruppo sportivo delle fiamme oro dà in tanti contesti come questo. E andiamo adesso a Roma con il vertice a Palazzo Crigi che ha appianato le distanze che si erano create nella maggioranza e che trova la quadra sul testo che viene inviato al Parlamento. L'opposizione attacca la manovra. Zero crescita per il Paese. Questo codice identificativo nazionale che farà emergere il sommerso di coloro che affittano appartamenti e quindi ci sarà trasparenza, si regolarizzerà tutto il sistema e questo porterà anche ad avere più soldi nelle casse dello Stato che andranno nel fondo per ridurre la pressione fiscale. Entra nella manovra la proposta di Forza Italia per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Viene confermato l'aumento al 26% della liquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto. Per la prima resta al 21%. Giorgio Meloni trova così la quadra e mette fine alle polemiche che si erano create nei giorni scorsi nella maggioranza. La Lega è soddisfatta dell'accordo trovato sulla manovra di bilancio perché come avevamo detto non ci sarà alcun perdivo forzioso sui conti ed è confermata la quota 103 cosa che aumenta la platea di potenziali pensionati di 50.000 unità ed è la conferma che l'obiettivo della Lega per la legislatura resta arrivare a quota 41. Rimane il fatto dell'approvazione in tempi rapidi e nel rispetto ovviamente del dialogo con il Parlamento e il fatto che la maggioranza si impegna tra virgolette a non presentare emendamenti. Dopo l'ok del Capo dello Stato il testo approda ufficialmente prima al Senato da dove partirà la discussione generale ai relativi emendamenti dell'opposizione che giudica questa manovra inadatta alle reali esigenze del Paese. La Presidente del Consiglio impone la sua linea fatta di nuove tasse tagli alle pensioni e alla spesa sociale a cui si aggiungono già i tagli che erano stati fatti ai fondi per i disabili. In tutto questo contesto mancano gli investimenti che servono alla crescita del Paese. Una pessima notizia che purtroppo pagheranno gli italiani. Quello che è preoccupante è che non sono chiare quali sono le azioni per lo sviluppo di questo Paese. Quali sono le azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e dare supporto alle imprese. E non solo manovra, andiamo all'interno della Repubblica perché in queste ore il dibattito è stato sulla riforma del premierato che è stata discussa in Consiglio dei Ministri il premierato alla Meloni norma anti-ribaltoni addio ai senatori a vita e il titolo della Repubblica la maggioranza blinda l'intesa sulla riforma che venerdì approva in Consiglio dei Ministri se cede il Presidente eletto direttamente il successore sarà scelto nella stessa coalizione il no da parte delle opposizioni ma è più un inquilino di Palazzo Chigi non parlamentare Renzi disponibile a sostenere il testo. Andiamo adesso in Basilicata con il Presidente Bardi che nomina Dina Sileo nuovo assessore alle infrastrutture dopo l'annunciato passo indietro comunicato da Donatella Merra il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha nominato Dina Sileo nuovo assessore alle infrastrutture con la nomina di Dina Sileo all'assessorato alle infrastrutture chiudiamo una pagina e ne apriamo una nuova ha affermato Bardi si tratta di un atto dovuto per quanto mi auguro alla luce delle recenti dichiarazioni di Donatella Merra che ringrazio per il lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo con delega alle infrastrutture che ha esercitato in maniera molto ampia e in totale autonomia come tutti sanno la creditudine in politica e il sentimento della vigilia la correttezza istituzionale invece non deve mai venire meno per rispetto dei Lucani e di tutto il centro-destra esce una donna ed entra una donna perché mai avrebbe voluto un'aggiunta senza la quota rosa che reputo fonte di ricchezza pluralismo e di inclusione dispiace aver letto parole ingenerose ma in questi quattro anni e mezzo ho imparato tante cose e ne ho messe a frutto altrettante in bocca al lupo a Dina Silea conclude il presidente Bardi che in questi ultimi cinque mesi saprà sicuramente concentrarsi sulle priorità infrastrutturali della nostra regione che proprio sulle infrastrutture registra il ritardo più grande rispetto al resto del paese e dell'Europa conclude il governatore Lucano Vito Bardi andiamo adesso a parlare di trasporti presentazione del treno delle ferrovie del sud-est dedicato alla sostenibilità il treno elettrico circolerà anche sulla linea Martina Franca-Putignano da poco elettrificata raggiungere il 70% di servizi elettrici entro il 2026 e decarbonizzare tutto il trasporto ferroviario entro il 2040 questi gli obiettivi di ferrovie del sud-est nel giorno dell'entrata in servizio del treno elettrico sui binari della linea Bari-Putignano-Martina Franca con questa tratta attivata lo scorso 16 ottobre ferrovie del sud-est ha completato l'elettrificazione di 81 km di rete entro il 2024 sarà completata l'elettrificazione della tratta da Martina Franca-Taranto e parallelamente partiranno anche i lavori tra noi Cattaro e Putignano questo è il commento del direttore generale Giorgio Botti oggi siamo al 30% di servizi elettrici e l'obiettivo è arrivare entro il 2026 al 70% obiettivo generale decarbonizzare tutto il trasporto ferroviario e automobilistico di ferrovie sud-est entro il 2040 un'inaugurazione che arriva nel giorno dell'elogio del presidente del consiglio Giorgia Meloni al capotreno aggredito dopo aver difeso una donna gli ho fatto i complimenti per la coerenza per il coraggio che ha avuto in questo gesto che come ha detto lui stesso dovrebbe rappresentare la normalità e l'ho ringraziato perché certamente ha dato lustro alla società un treno quello verde che rappresenta un orgoglio per la regione impegnata nel percorso della sostenibilità rappresenta per la regione Puglia la prova tangibile dell'impegno e del lavoro che stiamo mettendo in campo insieme all'impresa ferroviaria per guardare con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale Cambiamo argomento adesso parliamo di cronaca si sono svolti nella chiesa matrice di Fasano i funerali di Marcello Vinci il giovane morto precipitando da un grattacielo in Cina nella chiesa madre di Fasano l'ultimo saluto con i funerali di Marcello Vinci il ragazzo di 29 anni precipitato misteriosamente da un grattacielo in Cina quasi otto mesi fa nei giorni scorsi l'arrivo a Fiumicino e il trasferimento in Puglia con un carro funebre ma questa vicenda non si concluderà con la tumulazione della salma almeno questa è la speranza della famiglia che continua a chiedere alla procura di Brindisi l'apertura di un fascicolo e l'effettuazione di una seconda autopsia i genitori di Marcello sono convinti che il ragazzo non si sia suicidato e chiedono ulteriori approfondimenti sul 45enne cinese che era in sua compagnia nel momento in cui è precipitato dal 35esimo piano il comune di Fasano presente ai funerali con una corona di fiori mentre già sabato scorso il sindaco Francesco Zaccaria aveva portato il cordoglio della città alla famiglia andiamo adesso nel Salento la storia di Amina in questi giorni è arrivata sul tavolo del ministro degli esteri Antonio Tajani Amina ha 18 anni e da tre mesi è rinchiusa nel carcere di Astana capitale del Kazakistan le parole della mamma in esclusiva ai nostri micropoli la storia di Amina in questi giorni è arrivata sul tavolo del ministro degli esteri Antonio Tajani Amina ha 18 anni e da tre mesi è rinchiusa nel carcere di Astana capitale del Kazakistan non parla in russo ed è stata arrestata con l'accuso di traffico internazionale di stupefacenti la diciottene è una salentina viveva con la mamma all'equile è stata sequestrata per 16 giorni dalla polizia kazaka e oggi rischia dai 10 ai 15 anni di carcere ecco le parole e l'appello della mamma in esclusiva ai nostri microfoni alle tre porta Amina qua in procura per fare procedura a confronto con investigatrici non lo so io lei non ha fatto niente non c'è non c'è prove non c'è niente non c'è anche test per narcologia tutto pulito anche preso così quando lei passeggiava con un ragazzo senza prove fatto contro legge tante cose adesso avvocato anche fa Amina chiede aiuto io chiedo aiuto nostra tutta famiglia chiede aiuto noi molto stanchi molto depressione Amina io noi non c'è più perso tanto speranza con questa situazione Amina depressione anche molto paura per sua vita che succede qualcosa male con lei anche paura noi per vita nostra perché noi adesso facciamo contro di questi tutti poliziotti e andiamo all'interno del nuovo quotidiano di Puglia che si occupa proprio di questo caso il ministro come dicevamo Tagliani attenti alle sue condizioni indagini sugli agenti per le torture e spunta un nuovo biglietto dal momento in cui la nostra ambasciata ad Astana è stata informata del caso di Amina Milo ho chiesto agli uffici competenti del ministero degli esteri di seguire la vicenda giudiziaria della nostra conazionale con il massimo impegno il ministro per gli affari esteri Antonio Tagliani apre un faro sulle condizioni della diciottenne detenuta in Kazakistan che ha lamentato abusi fisici e psicologici l'ambasciata ad Astana e la direzione generale degli italiani all'estero stanno esaminando anche il tema delle sue condizioni fisiche per garantire innanzitutto la sua incolumità personale ho chiesto di seguire tutte le fasi processuali e di far luce sull'inchiesta aperta dalla procura speciale di Astana sui possibili abusi che la ragazza denuncia di aver subito ha detto il ministro Tagliani andiamo adesso a Cerignola confiscati beni per 400 mila euro a noto pregiudicato il blitz della DIA confiscati beni per un valore complessivo di 400 mila euro è il risultato delle attività della direzione investigativa antimafia che ha dato esecuzione ad un decreto definitivo emesso dalla corte di appello del capologo pugliese nell'ambito delle misure di prevenzione a carico di un noto pregiudicato di Cerignola nel Foggiano il destinatario del provvedimento personaggio di spicco del tessuto criminale Dauno è già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso è stato ritenuto soggetto connotato da pericolosità sociale in ragione dei gravi reati di cui si è reso responsabile le indagini patrimoniali eseguite dall'area di Bari sotto la direzione della locale procura della repubblica direzione distrettuale antimafia e già condivise dal tribunale sezione misure di prevenzione di foggia hanno permesso agli inquirenti di dimostrare che gli investimenti effettuati nel corso degli anni sono i proventi di attività illecita l'odierno risultato si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali finalizzate all'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti e riconducibili direttamente o indirettamente a contesti delinquenziali di tipo mafioso agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale c'è un indagato per la scomparsa di Salvatore Legari l'imprenditore di San Pancrazio Salentino sparito a Modena nel luglio scorso c'è un indagato per la scomparsa di Salvatore Legari l'imprenditore edile 54enne di San Pancrazio Salentino svanito il 13 luglio scorso a Modena si tratta di un 37enne di Sassuolo proprietario di una villa di Lesignana nella quale Legari aveva effettuato lavori di efficientamento energetico e in cui si era recato proprio il giorno in cui è sparito per riscuotere il compenso il reato ipotizzato e per il momento di sequestro di persona a scopo estorsivo nella giornata di venerdì 27 ottobre è stato sottoposto a perquisizione l'interno dell'abitazione dell'uomo e sembra siano stati sequestrati il computer un tablet e il telefono cellulare nelle scorse settimane con l'ausilio di vigili del fuoco e unità cinofile si era scavato nel giardino della sua villetta senza esito l'iscrizione nel registro degli indagati per il proprietario è un atto dovuto per consentirgli di partecipare alle attività investigative con tutte le garanzie di legge la procura di modena ha affidato l'incarico a un perito informatico le gare è scomparso in maniera inspiegabile non avendo egli evidenti problemi di natura economica o psicologica i suoi genitori e le sue sorelle che vivono a San Pancrazio Salentino non hanno mai creduto nell'allontanamento volontario una valutazione che con il trascorrere dei mesi sembra condivisa anche dagli inquirenti noi diamo spazio adesso al meteo e poi torniamo con la seconda parte del nostro telegiornale ben ritrovati con la seconda parte dell'informazione mattutina di Antenna Sud continuiamo a parlare di cronaca resta in carcere Francesco Cinieri il savese di 74 anni che sta ancora scontando la condanna definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio di un manduriano ispettorato agrario della regione Puglia avvenuto nel 2008 per la corte di Cassazione Francesco Cinieri il savese di 74 anni che sta ancora scontando la condanna definitiva a 30 anni di carcere per l'efferato omicidio nei confronti di un manduriano ispettorato agrario della regione Puglia avvenuto nel 2008 dovrà rimanere in carcere è stata dunque respinta la richiesta di scarcerazione dell'uomo a seguito del fine pena per la condanna del delitto di Sava la vittima di Manduria che nel 2008 aveva 47 anni fu ucciso con un colpo di fucile alla testa e il cadavere caricato nel bagagliaio della sua auto e poi data le fiamme delle campagne di Uggiano Montefusco frazione di Manduria l'omicidio sarebbe stato commesso da Cinieri all'epoca pastore di professione per un litigio in merito a una pratica per la richiesta di sovvenzioni regionali da investire in agricoltura che gli sarebbe stata respinta il savese Cinieri nel 2001 era già stato condannato a 17 anni per un altro omicidio volontario commesso a Sava nel 1995 e ancora altri 6 anni 40.000 euro di sanzione per la coltivazione illecita di droga infine la contanna a 30 anni per l'omicidio del Manduriano poi la decisione finale della corte di respingere ricorso anche per la mancanza dei requisiti idoni all'applicazione della continuazione delle pene condannando il detenuto al pagamento delle spese e alla permanenza in carcere andiamo ancora avanti ci spostiamo questa volta a Barletta dove ci sono stati momenti di grande apprezzione domenica sera dove un agente della polizia locale ha avuto un aspro diverbio con il conducente di una macchina ed è finito a terra dopo uno scontro con quest'ultimo una multa per via di un'auto in divieto di sosta poi la tensione e la colluttazione a due passi dal centro storico momenti di grave apprezzione domenica sera a Barletta dove un agente della polizia locale ha avuto un aspro diverbio con il conducente di una macchina ed è finito a terra dopo uno scontro con quest'ultimo l'episodio è avvenuto all'incrocio tra Corso Cavour e Via 3 Novembre nei pressi dei giardini del Castello Svevo un uomo era fermo con la sua vettura davanti ad un divieto di sosta un agente della polizia locale in pattuglia nella zona ha notato l'irregolarità e ha chiesto all'uomo di spostarsi per evitare la sanzione i due hanno avviato subito una lunga e accesa discussione durata diversi minuti davanti ai passanti e alle auto incolonnate nel traffico il conducente è poi rientrato nel veicolo dopo lo scontro abbandonando il luogo in fretta e furia l'agente invece si è accasciato ed è stato soccorso da colleghi e passanti accertamenti in corso sulla dinamica dell'accaduto e sulle responsabilità dei due protagonisti del diverbio scongiurate conseguenze peggiori andiamo adesso all'interno del nuovo quotidiano di Puglia allarme e teppismo ad Halloween autobus sotto scorta paura tra le autisti via ai controlli presidi delle forze dell'ordine della polizia locale per scongiurare gli atti di vandalismo soprattutto contro gli autobus di Amtab dopo gli ultimi episodi con il lancio di uova e pietre contro i vetri dei mezzi pubblici al San Paolo e al San Girolamo le forze dell'ordine sono pronte a dare una risposta in termini di sicurezza in tutti i quartieri della città ma in particolare nelle zone dove nel corso degli ultimi anni si sono registrati maggiori episodi di teppismo Piazza Amoro il San Paolo San Pio Loseto Carbonara il Cara e Palese i bus in transito da Corso Mazzini nel Rione Libertà un elenco che la presidente dell'Amtab Angela Don Vito aveva inserito in una lettera inviata al questore e al sindaco storicamente spiega il presidente Don Vito le aree indicate sono quelle dove si sono verificati in passato episodi abbiamo voluto fornire un elenco alle forze dell'ordine chiedendo una predisposizione di controlli ma non è detto che i vandali siano solo a San Paolo a Carbonara questa è una cosa importante perché gli autisti mi hanno rivelato di non sentirsi sicuri in tutta la città in questa notte di Halloween gli uffici dell'Amtab si sono intensificati sia con le forze dell'ordine che sia con la polizia locale per un confronto per far vivere questa giornata in sicurezza andiamo adesso a Taranto giornata di sciopero in tutta Italia per i lavoratori dell'ispettorato del lavoro consegnato anche un documento al prefetto per la terza volta in sciopero nell'arco di pochi mesi protestano i circa 60 lavoratori dell'INL l'ispettorato nazionale del lavoro di Taranto chiedono da tempo la trasformazione dell'INL in una vera e propria agenzia il riconoscimento degli arretrati della perequazione dell'indenità di amministrazione l'aumento del salario accessorio l'informatizzazione dell'ente la protesta convocata dai sindacati di categoria di CGL Cisle Will FLP Confintesa Unsa e USB è pienamente riuscita ai cancelli degli uffici di via Iapigia sono rimasti chiusi al termine del presidio i segretari sindacali si sono recati in prefettura per consegnare un documento con le rivendicazioni al prefetto Paola Dessi ogni giorno si parla in televisione di morti sul lavoro delle difficoltà che vive sui cantieri di lavoro e chi dovrebbe vigilare su questo sono gli ispettori del lavoro però vanno messi nella condizione e nel numero giusto per poterlo fare per cui noi chiediamo maggiori investimenti non ci sono risposte non c'è nessuna risposta in riferimento alle discriminazioni che questi lavoratori questa platea di lavoratori riceve lavoratori che sono in numero insufficiente che sono stati discriminati nella loro busta paga rispetto a tutti i lavoratori ovviamente sono stanchi noi continueremo a protestare perché ci sembra giusto sostenere le ragioni di questo personale che sono ragioni sacrosante che li porterà evidentemente a continuare la mobilitazione della protesta sui parchi eolici da realizzare lungo la costa ionica salentina vediamo ora le tavole dei due progetti che interessano il territorio tarantino e leccese anche il comune di Uggento dice no alle 72 turbine che la società Helios Energy SRL vorrebbe installare nelle acque a largo delle coste tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca così come previsto dal progetto depositato dal Ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica denominato Dorada altre 36 torri sono da collocare nelle acque tra Manduria Marugge e Torricella nel Tarantino peraltro Uggento nei giorni scorsi è già bloccato un'altra istanza simile poiché l'aria è prospicente al Parco Naturale Regionale Vitorale di Uggento e la zona di gestione della pesca individuata dalla regione Puglia denominata o Asi Blu le Secchie di Uggento importanti presidi ambientali che attraggono annualmente preziosa vi fa una migratoria che potrebbe risentire del posizionamento delle paleoliche le coste del litorale Uggentino rappresentano il maggior sito di nidificazione di caretta caretta della regione Puglia e pertanto la presenza di ingombri galleggianti possono confondere il flusso di ritorno a casa dei riproduttori e alterare la normale diffusione del novellame schiuso la nostra posizione è stata e rimarrà sempre quella già con l'ultima nota del 4 di ottobre l'ultimo scorso abbiamo rinviato una nota al Ministero dove noi abbiamo espressa la nostra contrarietà anche perché nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 il Consiglio Comunale tutto si esprimeva ad essere contrario nettamente all'installazione di un parco eolico offshore noi esprimiamo la nostra netta contrarietà a tutti i progetti di realizzazione di parchi eolici offshore a largo delle coste salentine in considerazione proprio del loro enorme impatto ambientale al fine di tutelare il patrimonio paesaggistico e naturalistico salentino la discutibile conduzione dell'autorità di sistema portuale deve essere portata in Consiglio Comunale l'ex sindaco di Brindisi Riccardo Rossi attacca il presidente dell'autorità Ugo Patroni Gritti sul caso del deposito Edison crede di poter decidere al posto del Comune e del Consiglio Comunale sentiamo le sue parole Ovviamente il tema dell'autorità portuale che con la mia amministrazione non si è mai sostanzialmente confrontata sui temi ma ha portato esclusivamente provvedimenti in comitato di gestione e per poi essere sottoposti al Consiglio Comunale come ad esempio nel PRP non va bene Dibattito aperto apertissimo a Brindisi sulla questione Edison il progetto per la realizzazione del deposito a GNL diventa improvvisamente tortoso l'ultimo Consiglio Comunale ha espresso un documento che non lascia scampo a interpretazioni unendo maggioranza e opposizione nelle perplessità su sicurezza e utilità dello stesso impianto una presa di posizione che ha fatto esultare soprattutto il fronte ambientalista acquendo se possibile ulteriormente i contrasti tra l'ex sindaco Riccardo Rossi e il presidente dell'autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi da sempre favorevole al progetto detto è una conduzione qui ci sono persone che si candidano di maggioranza di opposizione sindaco e via discorrendo e vengono votati dai cittadini dall'altra parte abbiamo delle persone che vengono nominate e quindi la città di Brindisi ha il diritto di avere la voce principale sul futuro del porto di quello che deve essere perché è strettamente connesso con la vita della città non è una cosa avulsa un enclave all'interno del quale si può decidere indipendentemente dal resto della città perché si determinano anche in questo caso la vita dei cittadini di Brindisi questa conduzione a mio avviso non va bene o si rivede questo schema o altrimenti subito dopo deve essere posta all'ordine del giorno anche questa conduzione dell'autorità portuale di sistema il presidente dell'autority ha fatto sapere che non intende intervenire sull'argomento l'opinione pubblica e successivamente la politica ha cominciato a cambiare idea sull'impianto da quando si è appreso della presenza di una torcia ora la palla passa a governo e regione che dovranno rispondere alla richiesta del consiglio comunale di reesaminare in toto l'iter autorizzativo e andiamo ancora avanti un ricercatore di Marugio scopre una nuova strada per la cura dei disturbi di neuropsichiatria si chiama Giuseppe Fanelli il ricercatore docente di psichiatria maruggese che con la sua ricerca ha gettato nuove speranze di cura per i disturbi neuropsichiatrici nello studio del dottor Fanelli docente di psichiatria all'Università Nimega dei Paesi Bassi e docente dell'Università di Bologna ha presentato la ricerca al congresso mondiale di psichiatria genetica Morreale in Canada la genetica sarebbe legata al nostro comportamento sociale ed alcune reti funzionali del nostro cervello bello abbiamo scoperto significative correlazioni genetiche tra la sociabilità e l'attività spontanea in due aree cerebrali situate nella corteccia temporale cingolata e frontale i geni influenzano il modo in cui si forma il nostro cervello e a sua volta è il modo in cui pensiamo e interagiamo con il mondo e dunque anche le scelte relazionali di amici dell'amore che cosa accade allora a chi ha disturbi neuropsichiatrici? possiamo dire che ogni gene è come un musicista ogni musicista suona un ruolo ma è l'interazione armoniosa tra tutti che crea una sinfonia o nel nostro caso un comportamento sociale o un tratto psichiatrico specifico questa è una conoscenza fondamentale perché può aiutare a combattere lo stigma associato di disturbi mentali che troppo spesso vengono erroneamente attribuiti a deborezze di carattere piuttosto che a fattori biologici quindi bisogna pensare a un'orchestra ben coordinata come simbolo del benessere psicologico si aprono dunque nuove strade per una migliore comprensione delle malattie neuropsichiatriche e nuove applicazioni terapeutiche le malattie mentali sono condizioni mediche come qualsiasi altra e avere una base scientifica solida per questa affermazione può essere un potente strumento di normalizzazione più di mille chilometri percorsi in bici per raccogliere fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto da mamma a mamma per i figli di una terra quella di Taranto per i figli di tutti è la seconda edizione di Mom2Mom più di mille chilometri in bici da Brescia a Grottaglie per raccogliere fondi da donare al reparto di oncoematologia pediatrica a Nadia Toffa di Taranto attraverso l'associazione genitori di Taranto una meravigliosa iniziativa ancora una volta abbiamo la dimostrazione che lo sport riesce a fare solo cose meravigliose una pedalata tra cuore e impegno fisico organizzata da Pasquale Marinelli collega del papà di Federica diventata come tanti bambini tarantini troppo presto un angelo l'obiettivo era sensibilizzare ispirare qualcuno a fare qualcosa a fare gli altri abbiamo accorciato di 15 chilometri di chilometri sono stati 1036 e abbiamo raggiunto la cifra di 10.000 euro che è il nostro obiettivo uomini e donne in sella a una bici dal dolore all'aiuto e alla speranza tra contributi e sensibilizzazione l'iniziativa è una carezza sul cuore per le mamme i papà famiglie che troppo presto hanno dovuto dire addio ai tanti e tante Federica questo nome Mom to Mom è dalle mamme che possono pedalare che possono fare sport anche le mamme che hanno i loro figli che devono combattere una durissima battaglia e noi non possiamo solo migliorare migliorare questo tragitto questo percorso che è durissimo 10.000 euro in un grande assegno donato al termine di una traversata 60 ore in viaggio da Margherita Rebuffoni mamma di Nadia Toffa alle tante mamme di Taranto l'economia integrale tema centrale di un meeting che si svolgerà a Taranto dal 3 al 5 di novembre non solo la promozione dell'economia integrale sostenuta da Papa Francesco ma anche la ricerca della pace il dialogo interreligioso le comunità energetiche la musica saranno questi i temi centrali di intrecci il primo meeting euro-mediterraneo dell'ecologia integrale che si svolgerà a Taranto da venerdì 3 a domenica 5 novembre organizzato da OICO con la Camera di Commercio di Taranto la Fondazione Vincenzo Casillo e Banca di Taranto si partirà il 3 presso la cittadella delle imprese parlando di sport come strumento di dialogo e cooperazione per la pace tante le presenze di rilievo internazionale nella serata l'arcivesco di Taranto Ciro Miniero incontrerà l'imam della grande moschia di Roma Nader Accad e poi forum sull'educazione energetica e la chiusura del 5 con il concerto dei giovani del Conservatorio Paesiello e la Santa Messa conclusiva e l'idea è quella di intrecciare luoghi saperi storie persone perché l'ecologia è integra per promuovere l'ecologia integrale nel Mediterraneo quindi avremo tanti ospiti tante storie collegamenti con Betlemme e Aleppo e collegheremo anche luoghi diversi l'impresa per noi ovviamente è al centro dell'interesse in linea generale lo sviluppo economico però stiamo parlando di buona impresa cioè l'impresa che dà e non toglie le risposte lineari non sono più possibili occorre dare risposte che tengano conto di più aspetti di quello ambientale di quello culturale di quello economico e tutto questo sarà fatto il giorno 3 Turismo verde opportunità per il territorio e nuove professioni di questo si è discusso a Carosino nell'ambito del Job Days Turismo verde è sostenibile conservare e promuovere le risorse locali minimizzando l'impatto ambientale al centro i giovani e le loro prospettive future di questo si è parlato a Carosino all'interno della cornice Job Day al castello da Iala Valva per restituire ai giovani concrete prospettive per il futuro una bussola di orientamento nel mondo del green tourism stamattina sicuramente un appuntamento importante per quello che riguarda il comune di Carosino perché oltre a parlare di mobilità sostenibile presentiamo il bike sharing insomma credo che sia una grandissima novità per Carosino parliamo anche di mobilità lenta presentando un percorso della via Appia che parte proprio da Carosino e arriverà a Oria e credo che Carosino si inserisce molto bene in quello che è il turismo lento basta un tipo di accoglienza che sia molto diretta e molto a contatto con il frequentatore diciamo dei cammini o dei cicloturismi la sfida è coniugare tutte le attività turistiche con la sostenibilità quindi coinvolgere le comunità ma anche pensare a un turismo che arricchisca le stesse comunità e dunque ambiente e turismo giovani ma anche innovazione e comunicazione è una comunicazione molto via social fatto di suggestioni di emozioni di riscoperta dei valori e quindi è uno strano incontro ma molto piacevole le generazioni future e loro che ci devono aiutare a mantenere un ambiente sano un ambiente pulito attraverso tutto quello che stiamo tentando di mettere in campo e adesso andiamo all'interno del nuovo quotidiano di Puglia parlando sempre di turismo calo nel Salento per il ponte di ogni Santi in hotel B&B il 20% in meno nessun pienone negli alberghi e nessun sold out nei B&B sarà una festività povera dal punto di vista degli arrivi nel Salento alla vigilia del ponte di ogni Santi anche Lecce risente del calo delle presenze turistiche il capoluogo salentino conferma il trend negativo evidenziato dalle stime nazionali elaborate da Assoturismo e Confesarcenti solo occupazione nelle strutture ricettive la Puglia infatti è fanalino di coda delle regioni del sud per occupazione camere in questi giorni con una percentuale del 53% e la città del Barocco non fa eccezione a ribadirlo sono gli stessi operatori del settore che analizzano senza allarmismi la frenata dei numeri rispetto a quelli registrati a settembre e ottobre mesi in cui la città ha registrato numeri in entrata vicini a quelli della stagione estiva lavoriamo sotto tono e non abbiamo ancora tutte le strutture ricettive piene spiega Graziana Giannetta vicepresidente provinciale federalberghi e direttore generale dell'hotel Tiziano a settembre e ottobre si è lavorato bene ma i numeri non sono bastati per chiudere quelle falle che si sono aperte a luglio e agosto mancano i trasporti e la comodità negli spostamenti chi atterra a Brini si è avvolta e vuole andare nell'entroterra salentino ha solo un'alternativa noleggiare un'auto come si può prendere un taxi che costa 200 euro solo per una tratta come si può spostare se manca un bus o un servizio navetta comodo e conveniente in Salento è una realtà isolata e non possiamo permettercelo il calo come sottolineato dagli stessi operatori è giustificato da una serie di fattori concomitanti colpa anche della giornata infrasettimanale e il calendario sicuramente sfavorevole infatti cade in mezzo alla settimana il primo di novembre non tutti sono riusciti a prendere giorni di ferie e poi la crisi economica che sta mettendo in difficoltà le famiglie ma ci sono anche colpe più strutturali a partire dal nodo dei trasporti e dalle infrastrutture che soprattutto per ciò che riguarda i soggiorni brevi incide in maniera significativa sul turismo partiamo adesso per Altamura parliamo di cinema ha presentato un docufilm vediamo di cosa si tratta la storia di Campo 65 affonda le sue radici nella seconda guerra mondiale l'edificio sulla provinciale che collega Altamura a Gravina nel pieno della Murgia Barese tra il 1942 e il 1943 ha ospitato circa 12.000 prigionieri del Commonwealth britannico di diverse nazionalità catturati sul fronte bellico nordafricano proprio ispirandosi a quella vicenda e sulla base del docufilm realizzato dal documentarista Gianfranco Pannone e da Valerio Burli Maria Moramacco ha scritto testi e musiche di alcune canzoni insieme al producer Luigi Bolognese per la colonna sonora del prodotto cinematografico nei giorni scorsi è stato pubblicato sulle principali piattaforme e sul sito di Suoni della Murgia il video della lettera uno dei brani della soundtrack il grano il cielo il filo spinato realizzato in dialetto e in inglese proprio per stabilire una connessione tra il territorio e la comunità internazionale dei prigionieri ciò che è importante è proprio coniugare i diversi linguaggi abbiamo voluto utilizzare il linguaggio musicale che è quello che noi adoperiamo con l'immagine e con la storia quindi tutto quanto insieme lo scopo è proprio quello di valorizzare quel luogo il materiale ha ritrovato ha fatto sì che si ricostruisse questa storia e soprattutto terrei a sottolineare che non è una storia locale di Altamura o di Gravina ma è una storia con la S maiuscola perché appartiene alla storia della seconda guerra mondiale appartiene alla storia della seconda guerra mondiale il campo di Altamura era il campo più grande d'Italia costruito per questo scopo anni dalla scomparsa il ricordo del famoso ricercatore glottologo a livello internazionale Francesco Ribbezzo scoperta anche un epigrafe a 71 anni della scomparsa Francavilla Fontana grazie al centro culturale Rosa Dardio ha celebrato un suo concittadino Francesco Ribbezzo apprezzato e riconosciuto per i suoi studi scientifici a livello internazionale per essere stato un glottologo epigrafista etruscologo e messapologo per il docente universitario e ricercatore due iniziative si sono tenute in collaborazione con l'amministrazione comunale è uno studioso che ha fatto grande la nostra terra che abbiamo voluto e vogliamo far conoscere i nostri ragazzi nella convinzione che le sue opere la sua vita il suo insegnamento possa aiutare i ragazzi per il presente e soprattutto per disegnare il futuro loro e della nostra terra a Castello Imperiali si è tenuto un convegno che ha visto come relatore il professore Domenico Camarda che ha con dovizi e particolari inediti ripercorso la carriera degli illustri ricercatori studioso francavillese è importantissimo ricordare questo personaggio di Francavilla che era conosciuto a livello diciamo internazionale e a Francavilla lo si ricorda soltanto come glottologo e basta invece ha fatto molto per la cultura non soltanto dell'Italia ma anche di Francavilla ed è bene che i giovani sappiano questa presenza nella cultura italiana che è stata fondamentale nella villa comunale di Francavilla è presente un busto raffigurante ribezzo opera dello scultore locale Raffaele Argentieri da domenica scorsa in via Simeana è presente un epigrafe dedicato al ribezzo dove nacque nel 1875 un gemellaggio storico tra le sezioni Aido di Copertino e Osimo in nome di San Giuseppe da Copertino proprio nei due comuni dove è nato e morto il santo con le ali donare è importante perché con la donazione vivono altre persone altre persone che non hanno più vita che non hanno e con la donazione ritornano a vivere una vita normale il gesto di donare di Francesco che era propenso lui a donare quando era in vita ha portato anche tanti a dire sì un gemellaggio storico in nome di San Giuseppe da Copertino quello avvenuto tra la sezione Aido del comune Salentino e la sezione Aido di Osimo proprio nei due comuni dove il santo con le ali è nato e dove è morto un gemellaggio che ricorda Francesco Raganato anche primo donatore di organi e ricorda soprattutto quanto sia importante donare il nostro compito è quello di promuovere ogni giorno la cultura della donazione qui a Copertino è un argomento abbastanza difficile da portare all'attenzione di tanti però diciamo che con l'impegno di tutti riusciamo a coinvolgerli e soprattutto i più giovani un gemellaggio importante e fortemente voluto sì molto abbiamo cominciato a pensarci due anni fa dovevamo venire l'anno scorso poi invece abbiamo fatto quest'anno e quale occasione migliore che come Aido è 50 anni di Aido nazionale donare è alla base della vita di una persona che è in lista d'attesa e ricordiamo che in Italia sono 8000 le persone in lista d'attesa che sono in attesa di questo dono enorme grande che è la vita attraverso un organo prima di concludere entriamo nella gazzetta del mezzogiorno per guardare anche le pagine interne dedicate allo sport un Lecce senza tregua in tempo già per la Coppa D'Aversa prepara il turnover domani la sfida al Parma nel match di ieri sera il gol di Immobile che fa godere la Lazio l'Atalanta spazza via invece l'Empoli il pallone d'oro che è ripreso nuovamente da Messi la sua ottava vittoria andiamo avanti con le prime volte del Bari qualcosa sta cambiando i segnali positivi della squadra barese e per la Serie C il Potenza si arrende battuto a testa alta il Benevento non sbaglia di misura basta un gol per festeggiare spazio anche agli altri sport la Puglia del tennis in vetrina Iliev e Paganetti sul trono per il karate argento e bronzo ai mondiani la Lucana Donofrio il doppio podio sogno che si avvera le sue dichiarazioni era questa l'ultima notizia della nostra prima edizione dell'informazione di Antenna Sud rimanete sintonizzati perché fra poco parte l'edizione dello sport della nostra emittente e dalle 8.15 nuovamente insieme in diretta per gli approfondimenti del mattino a più tardi a più tardi